Ciao Matteo, abbiamo finito la finale A dei 400 stile, una finale dove sei partito a bomba e veramente ci hai fatto sognare fino alla fine. Bene, sono le mie caratteristiche queste, quindi la gara io la faccio l'attacco, però in lunga non riesco mai a chiuderla come vorrei, non capisco perché, come mai, però sono qui per fare i due domenica e è lì che sono focalizzato. Certo, sei focalizzato di più sulla distanza dei 200, se devi fare comunque un'analisi della tua gara in vista dei 200 e anche per come ti senti adesso? Ora come ora mi sento morto dopo la gara, però è l'ultimo 50 e adesso rivedrò a bene i passaggi per analizzarla, però ovviamente la velocità c'è e vediamo domenica. Grazie. Grazie a te, ciao. Ciao.